Mi trovo in un'azienda nata da poco. Nata da giusto cinque mesi. Noi cinque mesi fa abbiamo fatto un bel investimento, abbiamo ristrutturato lo stabile, la facciata, ovviamente tutte le spese correlate tra insegne, vetri blindati che ora non abbiamo più, tutto distrutto. Io non so se vale la pena tutta questa sofferenza, tutti questi soldi spesi, anche perché adesso ci ritroviamo con di nuovo fare un investimento per aggiustare, perché si sa che i soldi anche di un'assicurazione, di un qualcosa non arriveranno presto. Oggi siamo di nuovo qua, non ci siamo fermati, vogliamo ricominciare, vogliamo ripulire almeno all'interno per ospitare di nuovo i nostri clienti. Davanti, noi abbiamo visto tutto rosso, abbiamo visto il vetro che si stava frantumando, e siamo scappati, perché le fiamme poi stavano arrivando anche all'interno. Fortunatamente l'altro vetro che abbiamo ha mantenuto, si è rotto, però ha mantenuto, altrimenti il fuoco ci avrebbe preso. Noi abbiamo fatto giusto in tempo a scappare. E voglio dire che noi siamo riusciti a scappare quando le fiamme erano alte, in modo tale che fuori non c'erano più i vandali, altrimenti avremmo subito anche noi percosse. Credo che siamo forti e ci rialzeremo.